In attesa che il 18 giugno spuntino all'orizzonte i boli di d'epoca della corsa più bella del mondo, il centro storico di Montevarchi si colora di iniziative. Nelle piazze Varchi e Vittorio Veneto un raduno di auto e moto storiche ed in via Roma invece spazi più piccoli, protagonisti del set fotografico Ciac 1000 Miglia promosso da Fondazione Mona Lisa. Grande evento, grande evento anche la Fondazione Mona Lisa è presente insieme al Comune e a tutti gli altri imprenditori qui della zona per festeggiare anche il tempo se non è buono pazienza non importa, faremo uno shooting dei bambini, 27 bambini che si vestono con i nostri prodotti e fanno festa. Io penso che sia un modo per stare insieme e riconoscere che questo sabato è diverso dagli altri. Un modo per stare insieme ma soprattutto un modo per star vicini e più è anche questo negozio dove ci troviamo in questo momento. A questo punto dopo 5 mesi dall'inizio del charity abbiamo contribuito con due asili a fare delle buone cose per i bambini rendere più verde quello che era un terreno un pochino arido e ci sentiamo orgogliosi di questo che è avvenuto. Molto bello e ringrazio soprattutto i genitori, i bambini di famiglie semplici, famiglie diverse, quelle che sono le più disparate della nostra zona che hanno collaborato con l'acquisto di capi perché una parte di questo di questi prodotti, di questo acquisto di questi prodotti è ritornata sul territorio. Siamo grandi, è proprio bello. Sì, ora aspettiamo 28 bambini si sono iscritti al nostro evento dove praticamente abbiamo organizzato una sorta di set cinematografico-fotografico quindi faremo per ogni bambino un bello scatto, lasceremo loro una breve polaroid e quindi sarà piuttosto all'insegna del divertimento, del gioco per premiare tutte queste numerose famiglie e bambini che sono venuti e che hanno frequentato il nostro charity shop da gennaio che abbiamo aperto. Una giornata interamente dedicata ai giovani, i protagonisti saranno i bambini ma un contributo fondamentale lo hanno dato anche i suoi studenti. Sì, anche oggi si rinnova all'interno del Mona Lisa Shop il punto di incontro tra i più piccoli e le studentesse, gli studenti dell'Isis Valdarno un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Montevarchi e dalla Mona Lisa Fondazione e all'interno del quale soprattutto le ragazze appunto si sono adoperate all'interno del negozio per quello che concerne la vendita e l'incontro con il pubblico. La finalità è di altissimo livello poiché tutti i proventi vengono destinati ai più piccoli del comune di Montevarchi. La scuola è presente, la filiera tra i vari istituti viene attivata e questo è un qualcosa che ci rende tutti molto felici. Grazie.